Ieri mattina le panchine circolari della vecchia piazza Regina Margherita sono state recuperate, prezioso l'impegno in tal senso dell'assessore Denaro e del consigliere Milana. Un sentito e doveroso grazie per la loro disponibilità a titolo gratuito ad Edil Forniture, che ha fornito il muletto, e all'azienda agricola Milana che ha messo a disposizione mezzi e risorse umane. Le panchine adesso si trovano nell'officina dell'azienda Milano che si occuperà del restauro, terminato il quale questi simboli spicesi verranno ricollocati in città. Il nostro direttore responsabile Piero Giuntara ha accolto e registrato le parole di soddisfazione dell'assessore Carmelo Denaro. Ascoltiamo. Allora, assessore Carmelo Denaro, una sola domanda. Si coglie e non si può nascondere la sua soddisfazione per il recupero delle quattro vecchie panchine circolari abbandonate all'incuria. Possiamo oggi dire, senza essere smentiti, che è stata recuperata con le panchine circolari tanta storia che hanno vissuto generazioni di spicefi. Carmelo. Ciao Piero e grazie, come sempre, per l'impegno che mettete e la disponibilità che avete nei confronti dei cittadini spicesi, dell'amministrazione e di tutti quanti. Sì, Piero, era da un po' che ci lavoravamo per cercare di portare all'essere finalmente il rientro in città dei sedili. Erano stati un po' abbandonati, diciamo così, presso uno spazio comunale, esattamente quello del depuratore di ispica. Oggi finalmente siamo riusciti ad organizzarci e a caricarli su un camion grazie all'impegno del consigliere Salvatore Milana e della sua azienda. Salvatore ha messo a disposizione oggi quattro dipendenti e i mezzi, un grazie lo dobbiamo dire anche a Edel Fornitura che ci ha fornito non solo un dipendente suo, ma anche il muletto per caricarli, perché o vuoi non vuoi, sono sedili che pesano. Finalmente siamo riusciti a ricombattare un po' i quattro sedili. E' chiaro che devono essere ripresi. Il consigliere Milano ha preso l'impegno, come sempre dedicato alla vita quotidiana della nostra amministrazione, di sistemarli nella loro officina. Quindi speriamo che quanto prima li avremo a disposizione, di modo che li potremmo collocare sicuramente nella piazza dove erano messi una volta, affinché possono rientrare nei loro posti e luoghi di appartenenza. Ringrazio anche nell'occasione il sindaco che ci ha dato spazio, campo d'azione per poter far sì che i sedili si riconducessero a casa loro e sicuramente quando saranno posizionati sarà ritornata un pezzo della nostra storia, della nostra piazza Regina Margherita. Quindi voglio ringraziare coloro i quali hanno contribuito e collaborato alla riuscita di questo e speriamo quanto prima, e siamo fiduciosissimi, che da qua insomma qualche settimana i sedili possono ritornare dove erano messi una volta, quindi nella nostra piazza. Grazie Piero, speriamo che sia questo sicuramente il desiderio dell'amministrazione e questo per quello che leggo tutti i giorni sui social è sicuramente il desiderio di tantissimi ispicesi e forse magari tutti. Grazie ancora Piero, grazie per tutto. Ringrazio l'affessore Carmelo Denaro, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica. Grazie a tutti.